Il 25 marzo, in concomitanza dei festeggiamenti per l'indipendenza della Grecia, i sindaci che si sono mobilitati in favore del paese ellenico da mesi alle prese con una gravissima crisi economica, effettueranno il primo versamento delle proprie indennità dopo la decisione di devolverle per lanciare un segnale forte nei confronti della comunità internazionale per aiutare il popolo greco. A qualche settimana, all'annuncio dei primi cittadini di rinunciare alle somme percepite per la loro attività amministrativa, un'iniziativa partita dalla provincia di Salerno, la mobilitazione è cresciuta con la costituzione di una rete dei sindaci e dell'Enici d'Italia. Mercoledì i primi cittadini di Cavali Tirreni, Marco Galdi e di Baronissi, Giovanni Moscatiello, rispettivamente presidente e portavoce della rete ProGrecia, voleranno ad Atene per incontrare il ministro degli interni Anastasios Giannizis e l'ambasciatore Petros Panagiatopoulos. In quella circostanza sarà firmato un protocollo d'intesa con il presidente della Croce Rossa Ellenica, con la quale il coordinamento si impegnerà a corrispondere mensilmente, oltre alle indennità di carica già destinate a tale scopo, tutto è ricavato di ogni forma di sostegno al popolo greco che sarà raccolto grazie alla campagna di sensibilizzazione del mondo delle autonomie italiano ed europeo e al coinvolgimento della società civile. La Croce Rossa Ellenica invece si impegnerà ad informare il coordinamento ed anche la direzione generale del ministero degli esseri greco sulle modalità di utilizzo degli aiuti ricevuti. Cava dei Tirreni ha un legame antico con la Grecia. Cava dei Tirreni è stata alla fine della Seconda Guerra Mondiale per circa un anno la sede del governo provvisorio greco quando Salerno era capitale d'Italia. Insomma un legame storico che insieme a ragioni di carattere politico più generale e cioè ad un'idea di Europa fatta di solidarietà, fatta di Europa dei Popoli hanno spinto il sindaco di Cava ma altri sindaci della provincia di Salerno a creare questa rete dei sindaci. Questa iniziativa ha sortito un effetto francamente che è andato ben al di là delle nostre aspettative o delle nostre intenzioni. Saremo ad Atene mercoledì prossimo a firmare presso il ministero degli esteri ellenico una convenzione con la Croce rossa ellenica. Qualcuno ha detto perché non aiutare l'Italia. Noi crediamo che in questo momento far passare un'idea di Europa della solidarietà vuol dire stabilire un principio che potrà essere di grande giocamento anche per l'Italia e soprattutto ci sono ragioni di carattere culturale. La Grecia è la madre della cultura occidentale e quindi non lasciarla solo in questo momento indubbiamente terribile della sua storia credo che sia un dovere di tutti noi che di questa cultura ci siamo nutriti.